Cari amiche e cari amici di MediCinema, eccoci con la nostra consueta rubrica dedicata alle novità in sala. Dal 18 luglio arriva un film toccante, già ce lo dice questa immagine, con Richard Gere, un film che si chiama Era mio figlio, un film che voglio lasciarvi scoprire direttamente dal suo trailer ufficiale e poi torniamo a parlarne. Ciao Reza, stai benissimo. Quanto è passato? 20 anni? Dopo che ci siamo lasciati ho scoperto di essere rimasta incinta e ho dato alla luce Allen. Non ti ho mai detto di lui. Due settimane fa ha avuto un incidente. L'auto ha sbandato all'improvviso ed è morto. Salve signor Block, le ho prenotato il primo volo in partenza dalla guardia martedì prossimo con rientro mercoledì pomeriggio. Sono Mikey, il miglior amico di Allen. È incredibile. Che cosa? Che lei sia il padre di Allen. Sì, è così. Sono molto felice di essere venuto qui. Ho conosciuto la sua insegnante, Alice. Salve. Era innamorato di Alice, la sua insegnante. E lei? Lei lo amava? Non potevo ricambiare il suo amore come voleva. La donna è stata una maledizione. Sono andata a sentirlo suonare, ho sbagliato. Poi mi ha chiesto di dargli un bacio. L'hai fatto? No, vi somigliate tanto. Neanche tu ti arrandi facilmente. Allen ha fatto qualcosa di grave, che ha richiesto una reazione da parte nostra. Hai sporto denuncia contro Allen perché... Mi torturava, non mi lasciava mai in pace e mi seguiva ovunque. Lo hai tradito, è colpa tua. Io sto appena cominciando a capire qualcosa. Mi stava rovinando la vita! Era un ragazzo stupendo! Questa è la trama di Era mio figlio, un uomo che scopre di avere un figlio dopo tanti anni della nascita, ma il figlio non c'è più e cercherà di risolvere questo mistero. Tanti intrighi, tanti sentimenti, tante emozioni, infine davvero da non perdere. La nostra seconda pellicola che andiamo a consigliare di questa settimana è un film che viene da qualche anno fa, è un po' così, torna, arriva anzi in sala, un po' in ritardo. Questo film su Padre Pio di Abel Ferrari, il grande regista di Fratelli di Kingdom of New York, con Charles Lebeuf, un film controverso, un film con alti e bassi, ma un film da vedere. E andiamo a scoprirlo con il suo trailer ufficiale. Non so che hai versato lacrime e che continui a piangere ogni giorno per l'ingratitudine degli uomini. Tu scegli le anime e nonostante non sia degno hai scelito. Oppressione sapete cos'è? Oppressione vuol dire subire crudeltà e ingiustizie. Come succede a voi? Queste persone lavorano per noi, da sempre, ogni giorno. E ora secondo voi dovrebbero andare a votare? Qualcosa ande, non mi torna. Loro non hanno diritti. Bisogna votare, amico. Dobbiamo farlo. Così sei diventata socialista. Sono venuto per licenziarti. Ti senti nell'oscurità? Sì, immerso. Come se per natura fossi portato a farmi queste domande ad avere sempre. Questa via contro Dio. Sono fuori punto. Mi sento molto arrabbiato. Un film forte, potente, un film con una grande interpretazione. Abel Ferrara non lascia mai indifferenti. Si può amare o si può odiare questo film. È davvero un'esperienza da fare in sala. Questi erano i nostri consigli di questa settimana di metà luglio su cosa vedere al cinema. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a tutti.